Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mi avete richiesto in tantissimi di tornare a fare i video test dei fondotinta. Visto che c'era un fondotinta in particolare che volevo provare, ho detto, ma facciamo un videotest così almeno vediamo insieme come lavora, come si comporta. Il fondotinta in questione è il nuovo fondotinta di NYX, Can't Stop, Won't Stop. Ho letto un attimo la descrizione di questo prodotto e dovrebbe essere un fondotinta full coverage, ma dovrebbe essere un full coverage confortevole da portare. Non so esattamente che cosa intendano, forse intendono che non va a fare l'effetto mascherone o l'effetto pesante sul viso. E poi dovrebbe durare fino a 24 ore e essere anche waterproof, anche se qui non c'è scritto, però sul sito dove rivendono il fondotinta c'era scritto anche che è waterproof. I colori disponibili, se ho contato bene, dovrebbero essere 41. Il prezzo di questo prodotto è 17,45 sul sito Look Fantastic. Io mi ricordo di averlo pagato, sì, sempre intorno ai 17 euro sul sito di NYX. Il colore che ho scelto io è il Nude, però non so se andrà bene perché quando l'ho scelto aveva ancora un pelino di residuo di autoabbronzante, poi le luci nei negozi NYX non sono proprio il massimo come in tantissime profumerie, quindi incrociamo le dita e speriamo che questo colore vada bene. La quantità all'interno della bottiglietta è di 30 ml come in tutti i fondotinta, la bottiglietta è in vetro e è fatto con la classica pompettina dei fondotinta. Direi di zoomare più vicino ed iniziare ad applicare il prodotto. Per chi non ha mai visto i videotest dei fondotinta che faccio, applico il prodotto su metà viso con la spugnetta e su metà con il pennello, così riusciamo a capire in che modo il fondotinta lavora al meglio. Iniziamo ad applicarlo sulla parte destra e lo vado a stendere con il pennello. Inizio mettendone davvero poco e vediamo che cosa succede, visto che è super full coverage, voglio vedere appunto come si comporta. Allora no, sicuramente devo andarne a mettere di più perché così non si vede niente. Allora, come colore non mi sembra neanche male, è un pelino più giallino di quello che uso solitamente, però devo dire che a livello di colori hanno fatto davvero un bel lavoro, cioè erano divisi per sottotono neutro, sottotono giallo o sottotono freddo. Forse ho preso quello sottotono giallo, non mi ricordo. Comunque in realtà il colore mi piace però dal vivo è un pelino giallo. Con il pennello non mi piace tantissimo l'effetto che dà, poi vi faccio vedere una volta che l'ho applicato su tutte e due le parti del viso da vicino. Mi mette tantissimo in evidenza i pori in questa zona e vedo che si è già asciugato molto velocemente. Mi sembra che si stia anche ossidando, mi sembra che stia cambiando colore e diventando ancora più giallo. Quindi senza chiacchierare ancora di più lo metto anche da quest'altra parte e vediamo poi che cosa succede. Allora mi sembra che l'applicazione con la spugnetta sia più facile e anche più veloce. È come se il prodotto si asciuga meno velocemente applicato con la spugnetta, però vedo che anche così mi mette parecchio in evidenza i pori e si asciuga molto molto velocemente. Quindi direi che sicuramente è sconsigliato già da subito ad una pelle secca. Calcolate che io ce l'ho normale, quindi vediamo un attimino che cosa succede nell'arco della giornata. Do una passata di spugnetta anche da quest'altra parte per cercare di eliminare eventuali strisciate che si sono formate con il pennello. Allora sì, direi che sicuramente mi piace molto di più l'effetto della spugnetta. Voglio zoomarvi più vicino, magari abbasso anche la luce, non so se riuscirete a vederlo. I pori in questa zona sono messi tantissimo in evidenza, stessa cosa da quest'altra e se ci fate caso io ho tre bollicine, una, due e dov'è l'altra? E' qui la terza. Non mi sembra che si siano coperte, c'è anche questa qui piccolina, non mi sembra che si siano poi coperte così tanto, quindi il fondotinta non mi sembra essere super full coverage come dicono loro. Magari ne prendiamo ancora un po' e proviamo a ripassare in questa zona, vediamo che cosa succede. Allora, ancora una volta quello che ho è un effetto che non mi piace, cioè mi sembra che la base sia parecchio pesante, al contrario proprio di quello che dicono loro. E mi pare che questo fondotinta non sia così tanto full coverage come viene descritto, ma piuttosto sia una coprenza sì medio alta ma non estrema come appunto descrivono. E mi sembra che il fondotinta sia parecchio asciutto, quindi sicuramente per una pelle mista tendenzialmente grassa o comunque grassa potrebbe andare bene. Per le altre tipologie di pelle, quindi soprattutto se ce l'avete disidratata e secca ve lo sconsiglio. Voglio finire il resto del trucco perché voglio vedere tenendolo un po' sul viso appunto con il resto del trucco fatto che cosa succede. Allora ragazzi, prime impressioni. Ho fatto passare un po' di tempo, ho realizzato questo trucco, trovate un mini tutorial sulla mia pagina Facebook o sul mio profilo Instagram se volete vedere come l'ho realizzato. Ne ho approfittato per provare un paio di produttini di NYX che avevo acquistato, che sono una la matita per sopracciglia, che devo dire mi è piaciuta, vediamo come si comporterà anche questa. E due sono questa specie di glitter barro ombretto liquido metallizzato che ho applicato qui sulla palpebra mobile. Allora, parliamo però del fondotinta che è il protagonista di questo video. L'effetto è comunque un po' pesante, soprattutto appena applicato. Appena l'ho applicato ho detto, cavolo, questo fondotinta proprio non mi piace. Invece devo dire che portandolo un po' sul viso, quindi lasciando che il fondotinta si scaldi con il calore della pelle, l'effetto è migliorato. Sicuramente adesso ha un effetto più naturale, più confortevole, sento meno tirare rispetto a prima. I pori messi in evidenza in questa zona lo sono un po' meno, anche se trovo che comunque si vedono più del solito. Trovo che questo fondotinta sia parecchio asciutto, infatti mi mette un po' in evidenza la secchezza qui intorno al naso e in altre zone del viso. Però tenete a mente che io ho una pelle normale, non ho necessità di avere un fondotinta super asciutto. Quindi mi sento anche di dire che potrebbe essere un fondotinta molto adatto ad una pelle grassa, almeno per il momento. Vista da lontano l'effetto mi piace molto, trovo che renda bene anche in video. Vista da vicino trovo che comunque mi appesantisca un po' il viso, quindi non lo so, non mi dà un effetto di estrema naturalezza, estrema freschezza, come mi danno i miei fondotinta che utilizzo solitamente. Però devo dire, l'effetto non è male, diciamo che continuerò a tenerlo sul viso e lo testerò ovviamente sempre per un tipo di pelle diversa dalla mia, quindi se questo fondotinta continua a rimanere così asciutto e continua tra virgolette a seccarmi il viso, trovo che sia una cosa positiva perché sicuramente si comporterà meglio su una pelle grassa che ha proprio bisogno di questo. Se avete una pelle secca asciutta, proprio ve lo sconsiglio, non fa assolutamente per voi. Questo è soltanto il primo check della giornata, ci aggiorneremo come al solito un paio di volte, quindi non lo so, a metà giornata e la sera prima di struccarmi per vedere che cosa succederà sul mio viso. Come al solito ragazzi ricordatevi di scrivermi qui sotto in un commento se avete provato questo prodotto, qual è il vostro tipo di pelle e come vi siete trovati, così chi guarda questo video può leggere nei commenti anche le opinioni di altre persone. Ci vediamo tra qualche ora con il primo check della giornata. Allora ragazzi, sono passate 5 ore e mezza da quando abbiamo applicato il nostro fondotinta, ignorate tutto il caos che c'è dietro di me perché stiamo facendo il trasloco e finalmente abbiamo acceso la stufa! Che bello! Comunque, spero che l'immagine si vedrà anche con una bella luce, dalla telecamera sembra bellissima, poi magari la importo e fa schifo. Comunque, questo fondotinta mi dà un effetto bellissimo, cioè mi sono guardata adesso allo specchio per vedere che cosa era successo e mi dà veramente un effetto bellissimo. Devo dire che appena applicato, cioè i primi 20 minuti, mezz'ora, ho pensato questo fondotinta fa schifo, devo essere sincera, lo sapete sono sempre sincera con voi. Quando è passato un po' di tempo, quindi mi sono truccata, nel frattempo ho fatto qualcosa, diciamo dopo un'oretta già aveva un effetto davvero bello, dopo qualche altra ora questo fondotinta era ancora più bello, adesso mi piace tantissimo, ha un effetto super naturale, quasi seconda pelle, l'effetto semi mascherone che si era creato all'inizio è completamente andato via, non mi chiedete il motivo, non mi chiedete come ha fatto, calcolate che ho messo giusto un filo di cipria, questo non l'ho detto nel video, ne ho messo davvero pochissimo, perché vi ripeto, questo è un fondotinta asciutto, molto molto asciutto. Secondo me questo fondotinta da una pelle mista grassa può veramente essere adorato, ovviamente se avete una pelle tanto tanto grassa, è possibile che dovete fare un ritocco di cipria al centro del viso, però calcolate che così è come l'ho applicato stamattina, non ho assolutamente fatto nessun ritocco di cipria, e non mi si è lucidato per niente, comunque un po' sul naso mi lucido, non mi è successo nulla, non mi sono lucidata da nessuna parte, quindi penso di aver trovato un altro bel fondotinta per le pelli più oleose, sono passate comunque soltanto 5 ore e mezza, quindi vediamo che cosa succederà poi a fine giornata, spero che in questo modo riusciate a vedere anche il fondotinta ad una luce naturale, non c'è nessuna luce artificiale in questo momento, e ovviamente quando farò il check tra altre, che ore sono? questo orologio va male, non so neanche che ore sono controllato prima, già mi sono dimenticata, quando farò il check stasera sarà buio, quindi ovviamente non vedrete nulla, anche se cercherò di farvi vedere sempre nel miglior modo possibile quello che succede sul mio viso. ci vediamo tra qualche altra ora. ragazzi è arrivata la fine di questa giornata, è arrivato il momento di andarmi a struccare, quindi traiamo le conclusioni finali, anche se voi non vedete niente in questo momento, ho cercato di fare una specie di punto di appoggio qui sulla sedia, infatti sono seduta per terra. comunque il fondotinta per me è promosso, vi ripeto lo consiglio ad una pelle da mista a grassa, se ce l'avete secca o comunque se ce l'avete grassa ma disidratata, secondo me non è un fondotinta adatto per voi, perché nelle prime ore tende a mettere in evidenza la secchezza della pelle. per quanto riguarda adesso sono passate davvero tantissime ore, sfioriamo praticamente le 10 ore, e a fine giornata si è leggerissimamente lucidato qui nella zona del naso, vedete anche voi che riflette proprio un pelino la luce in questa zona, forse anche leggermente al centro della fronte, ma assolutamente nulla di esagerato fuori dal normale, è normalissimo anzi che sia così, quindi secondo me questo fondotinta è un bel fondotinta, continuerò sicuramente a testarlo, però per me per il momento è promosso. Fatemi sapere come vi siete trovati voi, se il video vi è piaciuto ricordatevi come al solito di spolliciare all'insù, o di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, io vi mando un grandissimo bacione, e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!